Il 25 aprile è morto all'età di 88 anni Paolo Benedetti, concorrente dell'ultima edizione di The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1. L'ex banchiere che è stato anche il più anziano concorrente del talent aveva sorpreso tutti per la sua esibizione di meraviglioso Di Domenico Modugno, grazie alla quale era entrato nella squadra capitanata da Clementino. Affranta per il lutto Antonella Clerici ha scritto sui social Ciao Paolo, nostro grande senior.